questo è quello che succede alla maggior parte delle persone che evitano di mangiare i carbutrati perché fanno ingrassare però poi fanno delle abbuffate incontrollate in continuazione che diventano delle vacche così le signore delle foca monache delle cose inguardabili gli uomini con le tette mamma mia conversione del testosterone in estrogeni ecco perché quindi sviluppano i tratti femminili perché c'è un eccesso di estrogeni perché gli estrogeni sono sapeste sono necessari perché sotto una certa quota non si costruiscono muscoli non si mantiene la salute anche nell'uomo così come nelle donne hanno bisogno di una certa quantità di testosterone perché se no non c'è la salute delle ossa la salute anche mentale e di tutto il resto eccessivo testosterone sviluppano caratteristiche maschili la voce la peluria e via discorrendo insomma la storia è quella ovviamente se non mangi abbastanza i carboidrati e non sviluppi gli ormoni perché come ho detto tante volte le cellule che cosa fanno vanno in protezione quindi devono pensare a sopravvivere e non vivere e addio ormoni ed ecco questa la storia davvero molto semplice quindi poi il cervello e il corpo ci puniscono e ci portano ad aprire il frigorifero a tutte le ore e a fare la buffata incontrollate a mangiare di tutto ma nonostante la maggior parte delle persone per un frigorifero non saranno mai sufficientemente nutrite perché nel frigorifero al massimo vediamo se trova sta merda qui non so come farà a essere attrattiva questo è un pezzo di carne purtroppo qui c'è ancora chi mangia carne mamma mia è terrificante solo a vederla per non dire l'odore infatti poi tutti quelli che lasciano quei commenti atroci sulla carne o difendendo la carne non è che la mangiano così come i carnivori la mangiano cotta perché quella fa schifo non si può mangiare poi i denti rimane a dentiera lì perché ovviamente non ce l'abbiamo le zanne per prendere e strappare un lembo se uno prova con i denti li mette dura prova e poi dice perché saltano i denti e saltano l'otturazione e le protesi tirino avanti i denti tendono a non lavorare come devono lavorare ma li facciamo lavorare in questo modo che non siamo carnivori vabbè non lo vogliono capire ma un giorno lo capiranno quindi se noi neghiamo questa energia al corpo al cervello ricordatevi che il cervello è un vorace divoratore di glucosio soprattutto poi fruttosio così come nel sistema nervoso e ovviamente il cuore quindi abbassando totalmente i ritmi di abolici uno diventa una mebba perché il cervello comincia subito a risentirne non lavora al cento per cento anzi oltre avete presente la pasticca di limitless quella si sviluppa durante il digiuno perché il cervello costruisce grazie al rilascio di un fattore crescita nuove rigenerare nuovi neuroni però se noi durante quel processo siamo carichi di zucchero lì dentro che cosa succede che questo processo è accelerato come possiamo pensare di poter sviluppare efficacemente il sistema immunitario se il sistema immunitario come tutti i sistemi del corpo vanno a zucchero non avendo questo ovviamente questo è il top del top come possiamo avere prestazioni atletiche se non abbiamo zucchero come possiamo avere prestazioni lì sotto se non c'è zucchero sapete che i spermatozoi per la maggior parte del peso sono fatti di zucchero e certo perché gli serve energia per essere prodotti per muoversi per colpire la cellula al bersaglio in questo caso l'ovulo della signora e quindi avere una certa potenza se non c'è energia ti crepa prima del previsto ovviamente se la signora non ha energia l'ovulo si ritira non ha un'ovulazione ottima e quindi ma non è semplicissima poi dice si lamentano la gente perché non fa più figli e certo non ti mangi più lo zucchero quindi non lo può più fare come fermare queste incontrollate abbuffate semplice abbuffarsi di zucchero e di carboidrati inizialmente il corpo farà una cosa incredibile vi farà mangiare tutto ciò che carboidrati sembrerà quasi infermato di non fermarvi assecondatelo dopo un po di tempo che ne avrà avuto abbastanza rifornito le scorte si stabilizzerà sui suoi livelli di carboidrati ecco perché dico libido ma libido non significa di farsi male ma se il corpo richiede mandate giù perché manca altrimenti sono cazzi per il culo uno verrà punito apre il frigorifero lì trovi soltanto grassi proteine merdaccia insomma che tattoppano le arterie il circolo ematico non ti fanno ragionare perché non avendo zuccheri nel corpo cala il livello ormonale e addio ovviamente l'insulina poi non fa il suo lavoro ovvio perché la sensibilità non aumenta il circolo ematico si riempie di altra roba diventa una melassa e poi dice perché prendono i colpi apoplettici perché si formano le calcificazioni dentro il sistema circolatorio sì signore calcificazioni ho detto ci ho fatto le ricerche sono di due tipi l'arterioscherosi principalmente ovviamente c'è tutto uno spettro di andare da a b non è che è soltanto quello ma principali sono due grasse e calcifiche calcifiche significa che sono da dove vengono i calci acidi urici ed eccesso ovviamente di proteine il corpo poi le appiccica sulle arterie ci mette le piastrine per renderle inerti però purtroppo si induriscono pensate che c'è un'operazione che viene fatta qua sulle carotidi quando ti operano qua sei proprio quasi morto perché se le carote attoppate qui nel cuore proprio andato dovete mettere un ombrellino controvento così a forma di ombrellino e poi passano una frisa letteralmente una frisa tipo quella dentista per cercare di aprire il lume e levare quel pezzo di calcio che si è formato qui e qui si formano principalmente se si formano qua non è andato qua ci mettono provano con lo stente ad aprirsi lo stente praticamente è una rete metallica lunga molto flessibile un pezzo di tecnologia della madonna solitamente fatta in titanio in titanio morbido rivestito con altre materie adesso lo fanno mi sembra in carbonio e via discorrendo che cosa fanno la mettono all'interno perché il lume della praticamente è chiuso il lume dell'arteria che siano le succlave e discendenti non incontro se capitano nel nel coso nella gamba piede diabetico ho operato anche quelle nel senso come simulatore quindi si chiudono e cosa fanno mandano dentro il filo guida devono essere pure veloci perché se attoppano il buco ti fanno piano infarto poi mettono un altro strumento sopra catetere si chiama ok il filo guida fa perché il catetere serve a mandare il liquido di contrasto per vedere poi la gx quindi praticamente lo stato dell'arte l'unico sistema purtroppo invasivo per vedere perfettamente che cosa uno ha dentro gli altri sistemi non sono precisi però invasivo che cosa succede filo guida fanno scorrere poi levato il filo guida mettono il catetere poi altro strumento entra praticamente lo stente lo stente dentro praticamente fate conto che qui c'è lo stente questo qua è un palloncino che viene gonfiato tra i 7 14 bar c'è 14 bar qualcosa che manca un proiettile 14 bar di pressione e a volte non basta perché non dare più botte non stare attente perché ogni volta da una botta schizza su pulsazione tutto perché otta tappano ovviamente l'arteria praticamente il palloncino facciamo così si allarga a riallarga il lume dell'arteria letteralmente così e rilascia lo stente però dopo un po devono ripassare perché l'ume tende a fare questo perché il corpo ha partendo dall'esterno a una sua dimensione che non gli piace perché se allarghi così vai a toccare a cozzare su alcuni ovviamente organi ritorna giù che cosa succede che si chiude il lume però adesso c'è un problema perché il corpo non è stupido i pezzi metallici dentro le arterie o di materiale plastico di materiale inerte quindi non organico non gli piacciono quindi vengono aggrediti e attaccati dal sistema immunitario e ci si mettono le piastrine e quindi il lume si ristringe poi ogni tanto devi ripassare in sala operatoria vale la botta di palloncino allargare sperando che prima o poi riesce ad andare giù di lì quindi è una situazione di merda questo perché perché uno è questa è la roba grassa si appiccicano la ovviamente poi si appiccicano insieme ai carbotardi e la gente dice no è colpa di carbotardi che appiccano è colpa che non c'è con la roba che non ci deve essere pensate che fecero delle analisi ai ragazzi che vennero morti purtroppo dalla guerra di corea la guerra di vietnam hanno trovato tutti mancabilmente le arteriosclerosi all'interno del sistema scolare come quelle di un vecchio cioè massacrati già intorno ai 18 20 anni quindi tutti là fuori ce la vede l'arteriosclerosi mettetevelo in testa è soltanto un fatto se uno continua a farlo occludere o meno poi se prendono all'apparato riproduttore se prendono al cervello sono cazzi per culo ve l'ho già detto che succede se sa toppa qualcosa qui una merda quindi smettetela di fare queste stupidaggini per la vostra salute posso solo esortarvi poi ognuno dice le minchiate che vuole infatti gli arteriosclerosi che vengono agli schimesi che cose altre un cazzo e mezzo perché proteine sono proprio il simbolo della salute oi ma sai che 40 anni hanno l'aspettativa di vita non esiste proprio una popolazione longeva che mangia carne ma proprio scordate che gli okinawa pochissima la maggior parte plant based poi ovviamente lì c'è tutto un altro discorso l'ho detto quello della blue zone la loro differenza è l'aria che è pulita è perfetta l'ambiente ecco quello fa la differenza ovviamente avendo in un ambiente perfetto automaticamente calano richieste caloriche uno mangia di meno perché sta più fuori un cazzo e via discorrendo questo è l'unico modo per evitare di farsi del male con le abbuffate incontrollate quindi dargli il corpo ai carboidrati e per evitare di farsi del male alle arterie ve l'ho fatto una lezione veloce veloce bellissimo guardate io ho preso mano dei cateteri che costano anche 5 mila euro una cosa pazzesca la tecnologia purtroppo è soltanto un post e quindi non è che si risolve il problema oh ma l'ha aperto fatto cateterismo mamma mia sarebbe stato ridotto male perché se ce n'è una ce ne stanno altre nel circolo non è che se uno si trova un'arteriosclerosi potente quindi occlusa all'incirca 80 90 per cento da operare altre parti non ce le ha è solo un posto se vabbè la gente scherza con la salute prima di continuare vi ricordo di aiutare il canale lasciando i like commentate condividete e iscrivetevi nel canale e poi se volete fate una donazione attiva acquistando i miei libri oppure lasciando una donazione via paypal poi se avete delle curiosità penso che in futuro farò un come dicono question time cioè delle domande e delle risposte ma diciamolo in italiano no fuck frequent ask questions vaffanculo e magari prendo un po di domande ci faccio un video apposta e lo posto ma adesso qui vi lascio anche una testimonianza di un amico che fa parte del gruppo che ha cominciato sotto consiglio del di questo qua non di farsi di burro per avere energia perché giusto un demente pensa una cosa del genere quando andate in ospedale che state mezzi collassati che cosa fanno sparano dentro le vene soluzioni acqua e glucosio non acqua e burro o acqua e proteine così te mandano al creatore dopo domani perché se non arriva qua e non arriva qua e non c'è ossigenazione e non c'è possibilità di creare i corboni rossi caro estinto vi leggo la testimonianza allora preambolo sarebbe un periodo di merda dato che c'ho mio fratello in ferie e tocca lavorare molto più del solito e di quanto vorrei giustamente quindi meno l'aria aperta auziare spaparanzata al sole se ce n'è altrimenti faccio altro di normale ci sarebbe stanchezza poca lucidità e classico mal di capa dico sarebbe perché porca troia non ho un barlume di stanchezza pur avendo aumentato l'attività la sera alle 7 sono ancora perfettamente lucido con poca voglia di andare a letto e ancora fresco altro che cocaina a tutto ciò aggiungi che teoricamente dovrei essere malato nel senso che dopo che quella tosse tremenda è passata di mia figlia alla moglie sì c'è avuto questo problema marco ad inizio settimana anche io ho avuto dei segnali tipici dolorini corporei c'è presente quelli di stagione un po di brividi e poi spieghiamo adesso che cos'è non c'è cazzi durati 24 ore e poi anche se sono non sono ancora spariti del tutto non c'è verso di fermarsi è proprio benessere che si avverte e benzina insomma ecco qua una bella testimonianza ce ne ho tantissime nel gruppo riservato che ho creato e vi ricordo che se volete partecipare mandatemi un email un whatsapp oppure un telegram soltanto gli ho detto guarda marco in questo periodo fai una cosa abbatile all'ibitum cioè se il corpo chiede mezzo chilo un chilo non c'è problema e quali sono i risultati questi davvero incredibili perché qualcosa succede ve l'ho detto prima in uno stato di stress forte il corpo non avendo energia a sufficienza ok eppure lui mangia altro di carboidrati è molto più delle persone normale noi siamo dei grandi stimatori dei datteri non hanno lo stesso effetto di questo perché i datteri devono passare come la frutta e come qualsiasi alimento verso la digestione mi dicevo le tempo per essere rilasciato energia il corpo fa le cose perfette quindi se uno vuole una botta veloce come ha fatto lui quindi cosa c'è del sistema immunitario gli arriva subito energia sistema circolatorio gli arriva energia alle cellule gli arriva energia quindi porti acqua dentro le cellule sistema immunitario sono cellule perché sta nel midollo osseo che lì dentro sono cellule vive e lì si producono anche le famose cellule staminali senza energia ovviamente non vengono su neanche quelle quindi addio riparazione e via discorrendo poi che cosa succede aumentano i globuli rossi aumenta l'ossigenazione ci stai col cervello sempre focalizzato stanchezza non c'è perché la maggior parte della stanchezza viene a meno che uno ha fatto un lavoro forte pesante la maggior parte viene dalla mancanza di glucosio quindi i muscoli non lavorano efficacemente il sistema nervoso non lavora efficacemente quello respiratorio quello circolatorio apparato scheletrico e quindi non si recupera bene volete recuperare più velocemente se state male a parte andate di frutta l'ideale sarebbe digiunare ma vada ci giù all'invito poi se potete sapere di più contattate questa è una di quelle testimonianze che fanno capire che poi ovviamente il tizio lì stronca la fame non c'è bisogno di fare abbuffate incontrollate e aprire il frigorifero soltanto perché hanno detto è veleno bianco vogliamo parlare degli ormoni bovini e degli antibiotici dentro la carne tutta grass fede non grass fede perché lo vedete voi quello che gli danno quando non c'è in giro nulla da mangiare devono chiudere per forza dentro poi ai ricoveri quando stanno insieme chiusi nei ricoveri arriva il veterinario questo è il problema di aver concentrato con le poveri animali così come è successo nell'uomo concentri tanti uomini in poco spazio ecco fatto che succedono problemi regati all'igiene quindi alla salubrità e alle condizioni dell'animale stesso che peggiorano ovviamente e quindi poi sapete che cosa succede queste malattie che circolano che vanno e vogliamo parlare di tutta questa gente che si fa di un pesticida proprio lo manda subito dentro in vena se lo spara il caffè la caffeina è uno degli alcaloidi contenuti dentro il caffè non è anche il più potente che è un neurotossico che ammazza le cellule cerebrali e tossina lo stato pure infatti il corpo per liberarsi ne fa rilascia adrenalina accelera il ritmo cardiaco diuresi e voilà anche disidratato e poi i reni soffrono inevitabile carne e pesticida si fanno di qualcosa chi mangia la carne inevitabile ma ovviamente nel video dicono tutto quello che gli pare ma in piedi non sta infatti hanno un livello di un livello di fitness praticamente sono sempre in macchina non si possono muovere dolori da ogni parte informazioni da ogni parte che prima o poi reclamerà il suo quarto di buo fatevi furbi e fa delle cose come hanno fatte se volete continuare a andare avanti a pensare sempre solo al cibo ai carboidrati a queste diete io gli ho più non fa una dieta di io e più il metabolismo viene massacrato e più soccarsi il cuore ci vuole stabilità negli alimenti la varietà è la morte dell'animale perché a forza di variare uno rincoglionisce il corpo allora se io gli do oggi mela domani mela dopo domani mela un mese mela il giorno dopo che si aspetta al corpo mela poi magari gli do la carne sai che cosa succede il disastro metabolico massacro il corpo io sto malissimo oppure dopo una mela gli do una banana l'ho rincoglionito e la sento ma non perché c'è nulla che va la banana perché sono metabolicamente adatto al tipo di conformazione della mela quindi madre natura nella sua saggezza che cosa ha fatto ha dato i frutti di stagione quindi uno segue la stagionalità se mangia quello c'è di stagione come fanno tutti gli animali qui e indico qui perché là c'è una montagna vedo alcune mucca lo stato brato mangiano sempre le stesse cose per i giorni e giorni e giorni a volte se non per settimane le vedi magari in alto alla montagna qualche volta le vedi giù risultato così piene di muscoli la pelle appiccicata alle ossa e muscoli una bellezza unica libera e felice non si lamentano è una verità me so stufato quello non è bravo il corpo tuo però non si è stufato è per questo bisogna fare le cose fatte bene graddose no che cosa succede si ricade nella distrofia non solo quella muscolare ma quella proprio metabolica e anche psicologica quindi invece di costruire un corpo sano lo vado a distruggere bello affare smettere le abbuffate incontrollate lo ridiciamo come abbiamo finito dateci giù di zuccheri se vi fa ma non la pizza la mozzarella la cioccolata non è un dolce per dire grasso o la roba i pasticcini da pasticceria che è pieno di burro di olio e di cose in vere gonde non vi parlo di cose proprio zucchero ovviamente in cima di tutto la frutta riso patate la pasta senza grassi ovviamente di nessun tipo se volete anche se non sono molto amante mais la polenta era una cofana più un chilo di polenta la faccia quanta niente fuori non me ne frega metto là che non sono soddisfatto ripeto se ho ancora fame tranquillamente marmellate fatte in casa perché vi do anche un altro consiglio evitate tutto ciò che è acido perché se no i denti ve li squaglia purtroppo nei prodotti da banco ci mettono il correttore di acidità e via discorrendo che sono roba tossica perché sono inorganica quelli squagliano i denti non lo zucchero vi piacciono le bibite gassate vi fate l'acqua gasata a casa ci mettete lo zucchero battete e mandate giù però attenzione perché se c'è acidità dentro ci mettete roba acida c'è problema i denti non lo zucchero chiunque sta utilizzando lo zucchero non ha visto manco mezzo danno un mezzo aumentare le carie un mezzo problema anzi il corpo è molto più forte di prima perché lo zucchero poi viene dalla saliva lavato nessuno si lamenta che sente l'appiccicatume tipo il miele in bocca nessuno mi ha detto che sente trano cose che non vanno no anzi addirittura uno si è accorto che ha delle infiammazioni e le gengive perché dice vada mando giù lo zucchero ma da fastidio le gengive fatto controlla che c'hai le gengive infiammate questo è il miglior spazzolino sulla faccia della terra perché fa salivare di brutto poi la la buccia coriacea della mela pulisce i denti ok ovviamente se mangiate questa la voglia a te alla valle pulile a me dopo un po fa vomitare mozzicare la carne però il corpo ha provato è provato pure la carne clou mamma mia un pezzo di cartone vi garantisco che c'è più sopra mozzicato il cartone cazzo il cartone sa di qualcosa cellulosa la carne zero ecco perché poi fanno quei papponi così da carne non c'ha saputo la torno frullare la torno lasciare essiccare guardate poi quando mamma mia tornando a noi volete eliminare la buffata incontrollate il gelato non è un dolce non è qualcosa di dolce qualcosa di grasso poi latticini insulina qua è invece di avere questo ho questo e quindi insulina sempre levata entra sempre dentro e la gente c'ha il mal vizio di non vedere cosa è carboidrato cosa si ma è una pizza fate conto una vegetariana che non c'è olio almeno sono carboidrati letteralmente frutta ortaggio un po di verdure magari con le patate buonissima e la parte sotto fatta con una base come volete glutine senza glutine lasciate perdere perché inizia naturalmente il corpo richiede tutto ciò che è carboidrato basta che non c'è l'oglietto al crudo così ta vai insulina sono resistenza o c'è il formaggio vegano lasciate perdere quelle stronzate per dio non cercate mai surrugati se non tornate indietro ma fate l'originale se proprio volete io manco quello non lo so quindi come puoi dire che la pizza è qualcosa sono carboidrati se sopra c'è un padocco dei lardo come puoi dire che la che la pasta del carboidrati proprio il parmigiano o il pecorino e ce lo scaricano sopra a tonnellate perché ormai hanno le papille gustative sta gente talmente aggredita che non sentono più i sapori sapete che cosa ho trovato più buonissimo e l'ho consigliato come mangiare il riso ovviamente non lo dico qua nella zona riservata una pasta semplice 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 con un condimento non condimento che è una cucuturia perché avendo le papille molto sensibili sento subito tutto quindi ha un sapore madornale e chiunque l'ha fatto ancora se ne sta innamorando di quel semplice non condimento perché bisogna uscire dalla logica della cucina ma nutrire il corpo è come fanno gli animali quando poi una papilla gustativa basta poco di un condimento ovviamente fatto con della frutta che è una cosa che lascia a bocca aperta consiglio anche un dolce salato non un dolce come mettere una frutta dolce con un piatto salato insieme una cosa bestiale per le papille gustative il massimo tutto sempre nel gruppo riservato email whatsapp o telegram e vi dico i termini ovviamente li andiamo nel dettaglio di tutto quindi in conclusione del video e vi ricordo di iscrivervi pollice verso su condividete con gli amici fate una donazione attiva tramite l'acquisto dei miei libri oppure tramite paypal e vi dico se il corpo vi fa mangiare anche un chilo di pasta per divino un chilo di viso quello che sia perché ha bisogno di carbutare anche per diversi giorni assecundatelo e all'inizio c'erano un po di ritenzioni idiche che cazia perché l'avete rincoglionito ormonale poi dopo andrà tutto a posto e vi farà smettere di mangiare tutto perché si rilassa anche mentalmente il corpo e anche noi già finalmente questo non ha più tagliato i carboidrati so che mi arriveranno sempre quelli e solo quelli felicità al mondo calma tranquilla ovviamente sempre calmi rilassati focalizzati si vedono l'opportunità tori in corsa o delle divinità delle giunone venere quello che volete vi posso garantire ci diventate e quindi normalizzerà la richiesta di cibo per chi non avesse capito un po di fisiologia all'interno delle cellule ci sono i condi sono degli organelli dei batteri che creano energia per la cellula una simbiosi perfetta questi organelli ovviamente vanno a frutto a fruttosio e glucosio ok infatti si concentrano maggiormente dove trovano più glucosio e fruttosio nei muscoli un'enormità perché sono glosi di quello fanno la respirazione cellulare creano energia e per bruciare i grassi hanno bisogno del glucosio e fruttosio perché se vedete i vari cicli che gli scienziati ci hanno fatto vedere se non arriva glucosio interrompono proprio letteralmente l'utilizzo di grassi perché non c'è energia ve l'ho detto non posso fare il mio metabolismo quello deputato per la cellula quindi simbiosi devo pensare a campare quindi ecco fatto che pure la cellula esattamente di quello che devo restringere se non avete capito e controllare col bilancino sono i grammi di grasso che entrano qua perché ogni grammo di grasso in gramo qua 98 per cento dei grassi viene convertito in grasso perché è una scorta futura solo il 2 per cento viene utilizzato subito però se io comincio a dare carboidrati e le cellule hanno energia comincia a aprire e l'insulina sta qua sotto giù ok non sta così non sta qua c'è livello di insulina bassi non si ma sempre tutto il giorno io ho questo quindi vedete a destra e sinistra tantissimo tempo senza insulina il corpo comincia a rilasciare acidi grassi i mitocondri cominciano a bruciare molto bene bruciate di come metabolizzare i grassi e io perdo grasso corporeo del mio perché finalmente c'è energia cellulare ecco qua come funziona davvero molto semplice poi se faccio la giusta attività fisica leggera senza soffrire poi poi ovviamente prendendo all'inizio aiutandolo divento attivo in modo normale e dagli che bruciano altri grassi aumenta la respirazione quindi aumentano i globuli rossi più ossigeno verifica quello normale non più perché più ossigeno che l'ossigeno ossida ci sono le piamme ossicidilene che tagliano le cose ossicidilene quindi fatte con l'ossigeno quindi finalmente respiro come devo respirare 3 litri di ossigeno un chilo di lardo quindi magari respiro 30 40 50 il 200 per cento in più bruciano più grassi senza accelerare il metabolismo con le pasticche di pesticida chiamato caffeina senza quella merda varia e nel tempo non è difficile da capire da tutto là se non aprite qualche libro qualche sito scientifico vi diranno tutti la stessa cosa i carboidrati bruciano i grassi bruciano la fiamma di carboidrati niente fiamma è come dire metto un ciocco di legna grosso il pezzo di lardo ma se sotto c'è una fiammella quando lo brucio sotto c'è veramente le fiamme dell'inferno con un attimo se lo fanno secco tagliare i carboidrati è il miglior modo per vivere una vita di merda e fare le abbuffate incontrollate poi soprattutto dopo l'estate vedete donne perché il cervello è talmente tanto meno fame di zuccheri no gioco fa ingrassare ingrassare a voi la scelta sapete dove sono sapete dal mio gruppo riservato se volete fate sentire e lasciate sempre questo like alla prossima grazie